Verso l'alto? No, verso sinistra, no? No, verso il basso, Gianni! Verso il basso! Appunto, quello che stavo dicendo, verso il basso! Come vuoi? E adesso com'è girata? Ma verso l'alto è chiarissimo! Gianni, dammi retta! Dovresti mangiare più carote! Buone e sane carote svizzere! Perché? È giusto, no? Adesso è girata verso l'alto! Certo, Gianni! Buone carote svizzere! Naturalmente, dalla Svizzera!